Il sistema scolastico in Italia si conferma per il 2022 uno degli anelli deboli del sistema, se non l'anello debole per eccellenza, se si valuta che gli alunni di oggi saranno i professionisti di domani. A dirlo il nuovo report di Save the Children, che come ogni anno ha fotografato lo stato dell'arte e dell'educazione in Italia, dall'eloquente titolo alla ricerca del tempo perduto. Una scuola, quella italiana, che non versa nelle condizioni idonee per fronteggiare la grande e sfaccettata crisi economica e sociale in atto e che non pone le condizioni per invertire il trend negativo di povertà materiale ed educativa. A partire dai dati sulla dispersione scolastica, che mostrano ancora un grave divario tra la situazione al nord e al sud, dove si registra il maggior numero di famiglie svantaggiate dal punto di vista socio-economico, in cui si concentrano i livelli di apprendimento più bassi e il maggior rischio di dispersione scolastica. In Sardegna il 13,2% dei minori abbandona precocemente gli studi, senza riuscire a conseguire il diploma delle superiori e nell'isola i NIT, cioè i giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano né lavorano, sono quasi 1 su 4, il 23,6% del totale, poco al di sopra della media nazionale del 23,1%. Per ciò che riguarda le competenze nelle singole materie, secondo il report di Save the Children, in alcune regioni, come la Campania, la Calabria e la Sicilia, più del 60% degli studenti non raggiungono il livello base delle competenze in italiano. La Sardegna rientra invece, assieme a Campania, Calabria e Sicilia, tra le regioni i cui studenti, che non posseggono le basi della matematica, raggiungono il 70% del totale. Un dato questo fondamentale per pesare l'acquisizione di competenze adeguate al proseguimento degli studi universitari o all'ingresso nel mondo del lavoro. Dati negativi che si fanno più acuti in tutta Italia, laddove scarseggiano le classi a tempo pieno e il servizio di mensa scolastica.